Musica Musica Ok ragazzi, io vi do intanto a tutti quanti una buona giornata, spero che vi state divertendo e spero che stasera ci vediamo lì a vita azzurro, ma non per noi e soprattutto per gli scapparchi che è un grande. Ok ragazzi, quindi buon divertimento, alla prossima, un bacio, ciao! E lui inizia la sezione panico, che ha posto l'anno e poi, il corso, Paolo Rana e Paolo Di Venuto, che ha posto l'anno e battono al testo. Ciao! i i i i i i Ciao Il mio Solisiramo! Viavie Viavedere! Viavamo! E' un' INDCIA MARRA Motre come ti sento Penso che è un problema Mit இ del problema E' un problema is來了 E' cells'ct wake E' un tempo vide E' un certoソario voglio vedermi il generale in tutta la stagionezza quanto vuoi la stagione allora, abbasso il post abbasso il post adesso, pronto e pronto e tutto un po' 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 un po'